Ciao a tutti, oggi stiamo inaugurando una nuova modalità di comunicazione che vorremmo diventasse un appuntamento fisso, una rubrica dove tutti i portavoce comunali e municipali possano attraverso dei video comunicare direttamente con voi. In questo modo qualunque attivista voglia farci un video avrà modo di caricarlo sulla rete e voi potrete vederlo. Cercheremo di spiegare in modo chiaro, in modo esaustivo e comunque anche molto rapido le principali attività nelle quali siamo impegnati, sia a livello di commissioni sia a livello di consiglio. Speriamo vi piacciano e buona visione! Grazie a tutti!